il comune di castellabate l'associazione vivi san marco la parrocchia san marco evangelista vi invitano a porto in festa terza edizione sabato 27 luglio ore 20 e 30 san marco di castellabate una straordinaria festa dedicata al mare in collaborazione con i pescatori di castellabate che hanno preparato un menù tutto da scoprire per promuovere il buon pescato locale non perdere porto in festa sabato 27 luglio ore 20 e 30 san marco di castellabate